Sono appena arrivato dal parco d'orio, cioè non ci credo, assurdo, incredibile, incredibile Invio demolendo di due 444R, fortuna incredible Con vabbè dietro le quattro carrozze che fanno da massa frenata Ma proprio una fortuna incredibile al 100%, inaspettatissimo proprio Alla nuova livrea dell'E402B Intercity 2000 O Intercity 2.0 Sto sclerando di gioia proprio Una fortuna incredibile al 100% Qualche giorno fa c'è stato l'invio demolendo di altre due tartarughe Che erano la 025 e la 096 Mi pare cinque giorni fa Addio vecchie e care tartarughe Non ci credo Altro unità se ne vanno Verso il demolitore di San Giuseppe di Cairo Dove adesso giacciono la 096 e la 025 Nel frattempo il demolendo si è fermato Fortuna incredibile Poi per di più proprio inaspettato Cioè sono appena arrivato Vedo un E402B spuntare dal nulla Ho detto potrebbe essere un freccia bianca però Freccia bianca è già passato Poi dietro vedo le due tartarughe Ho detto un demolendo Che fortuna Nel frattempo ho scatto due foto Per ricordare Di questo momento E niente adesso aspetto che riparta Nel frattempo è arrivata anche La mia amica Margherita dal canale Margherove009 E nel frattempo è partito Anche uno spostamento E sta partendo anche il demolendo Fortuna incredibile Sono arrivata al parco d'olio E guardate un po' demolendo Con due tartarughe Altre due Circa cinque giorni fa Ce n'era stato un altro Di invio demolendo Di due tartarughe La 096 e la 025 Guarda mamma mia Che forza Non ci posso ancora credere io Proprio una fortuna Mastodontica Addio vecchie e care tartarughe Alla fine di un'era proprio Addio vecchie tartarughe Ci mancherete tanto Raga mamma mia Che colpaccio Infatti un colpaccio Incredibile Inaspettatissimo Inaspettatissimo Diamogli un ultimo sguardo A queste Due unità Diamogli un ultimo sguardo Come ha detto Il mio amico Stefano Adesso già Si vedono solo Le quattro carrozze Inversiti Adesso solo Quattro carrozze Inversiti Si vedono Ciao ciao Addio Vabbè Vi saluto anche il manito Stefano E può confermare Che è un colpaccio Super mega assurdo Infatti Confermo al 100% Vabbè Nel frattempo C'è lo spostamento Che torna indietro Infatti Vabbè Ciao raga Colpaccio incredibile